Ciao a tutti da Bruno Peti, oggi vi parlo di quali sono i pericoli del postmodernismo. In poche parole il postmodernismo è una filosofia secondo cui non esiste una realtà assoluta ed oggettiva specialmente per quanto riguarda la religione e la spiritualità se messo a confronto con una dichiarazione di verità riguardante la realtà di Dio e la pratica religiosa. Il punto di vista del postmodernismo viene semplificato con la frase potrebbe essere vero per te ma non lo è per me. Mentre una risposta simile potrebbe essere completamente appropriata quando si discute di civili preferiti o di preferenze riguardo all'arte, una mentalità del genere è pericolosa quando viene applicata alla realtà perché confonde questioni di opinione con questioni di perità. Il termine postmodernismo letteralmente significa dopo il modernismo e viene usato per descrivere filosoficamente l'era attuale che è venuta dopo il modernismo. Il postmodernismo è una reazione o forse sarebbe più appropriato dire una reazione disillusa alla promessa fallita del modernismo di usare la religione umana da sola per migliorare l'umanità e rendere il mondo un posto migliore. Dal momento che una delle credenze del modernismo era che esistessero degli assoluti il postmodernismo cerca di correggere le cose eliminando prima di tutto la verità assoluta e rendendo ogni cosa, incluse le scienze empiriche e la religione, relativa alle credenze e ai desideri di un individuo. I pericoli del postmodernismo possono essere visti come una discesa progressiva che comincia con il rifiuto della verità assoluta e poi conduce alla perdita di distinzione nelle questioni di religione e di fede e culmina in una filosofia di pluralismo religioso secondo cui nessuna fede o religione è oggettivamente vera e dunque nessuno può sostenere che la sua religione sia vera e un'altra falsa. Pericoli del postmodernismo Verità relativa La posizione del postmodernismo della verità relativa è il prodotto di molte generazioni di pensiero filosofico. Da Agostino alla Riforma, gli aspetti intellettuali della civiltà occidentale e il concetto della verità erano dominati dai teologi ma a partire dal Rinascimento i pensatori del XIV secolo fino al XVII secolo cominciarono ad elevare l'umanità al centro della realtà Se si guardasse ai periodi storici come a un albero genealogico il Rinascimento sarebbe la nonna del modernismo e l'illuminismo sarebbe sua madre La frase di Cartesio, penso, dunque, sono personifica l'inizio di questa era Dio era più al centro della verità, c'era l'uomo L'illuminismo fu, in un certo senso, l'imposizione completa del modello scientifico di razionalità su tutti gli aspetti della verità Sosteneva che solo i dati scientifici potrebbero essere oggettivamente capiti, definiti e difesi La verità riguardo la religione fu scartata Il filosofo che contribuì all'idea della verità relativa fu il prussiano Immanuel Kant e la sua opera critica della ragione pura uscita nel 1781 Kant dichiarava che la vera conoscenza di Dio era impossibile dunque creò una divisione della conoscenza tra fatti e fede Secondo Kant, i fatti non hanno niente a che vedere con la religione Il risultato fu che le questioni spirituali furono assegnate al regno dell'opinione solo alle scienze impedì che fu permesso di parlare di verità Mentre il modernismo credeva negli assoluti della scienza la rivelazione speciale di Dio, la Bibbia, fu cacciata dal regno della verità e della certezza Dal modernismo, bene, il postmodernismo è l'idea di Friedrich Nitzke Da santo patrono della filosofia postmodernista Nitzke si attenne al prospettivismo secondo cui tutta la conoscenza inclusa la scienza è una questione di prospettiva e di interpretazione Molti altri filosofi hanno costruito sull'opera di Nitzke per esempio Foucault, Rortry e Lothard e hanno condiviso il suo rifiuto di Dio e della religione in generale Hanno anche rifiutato ogni traccia di verità assoluta o come disse Lothard un rifiuto di una metanarrazione una verità che trascende tutti i popoli e tutte le culture Questa battaglia filosofica contro la verità oggettiva è risultata nel fatto che il postmodernismo è totalmente contrario ad ogni rivendicazione di assoluti Tale mentalità naturalmente rifiuta qualsiasi cosa che dichiari di essere verità infallibile come la Bibbia Pericoli del postmodernismo Perdita di discernimento Il grande teologo Tommaso d'Aquino disse è compito del filosofo fare delle distinzioni Quello che voleva dire Aquino è che la verità dipende dalla capacità di discernere la capacità di distinguere questo da quello nel regno della conoscenza Tuttavia se non esiste una verità oggettiva e assoluta allora tutto diventa una questione di interpretazione personale Secondo il pensatore del postmodernismo l'autore di un libro non possiede la corretta interpretazione della sua opera è il lettore che in realtà determina il significato del libro un processo chiamato distrutturazione e dato che ci sono molteplici lettori ma un solo autore sono naturalmente molteplici delle interpretazioni valide Tale situazione caotica rende impossibile fare distinzioni significative o durevoli tra le interpretazioni perché non si può usare alcuno standard Ciò vale soprattutto per le questioni di fede e di religione Tentare di fare delle distinzioni appropriate e significative nell'era della religione sarebbe come discutere che la cioccolata è più buona della vaniglia Il postmodernismo dice che è impossibile pronunciarsi oggettivamente tra dichiarazioni di verità in competizione Pericoli del postmodernismo Il pluralismo Se la verità assoluta non esiste e se non c'è alcun modo di fare delle distinzioni significative di che cos'è giusto o sbagliato tra differenti fede e religioni allora la conclusione naturale è che tutte le credenze devono essere considerate ugualmente valide Il termine adatto per questa derivazione pratica del postmodernismo è il pluralismo filosofico Con il pluralismo nessuna religione ha diritto di dichiararsi vera e di dichiarare le altre fedi false o persino inferiori Per coloro che sposano il pluralismo filosofico religioso non esiste più alcuna eresia Ma rimane forse l'opinione che esistono delle eresie di A. Kersson Sottolinea che quelle che sono le preoccupazioni dell'evangelismo conservatore nei confronti di ciò che considera come il pericolo del pluralismo Nel preoccupo dei miei stati d'animo a volte mi chiedo se la brutta faccia di ciò a cui mi riferisco come pluralismo filosofico non sia la minaccia più pericolosa al vangelo dell'ascesa dell'eresia agnostica del secondo secolo Questi pericoli progressivi del postmodernismo verità relativa, perdita di discernimento e il pluralismo filosofico rappresentano delle minacce imposte alla cristianità in quanto respingono collettivamente la parola di Dio come qualcosa che non ha una vera autorità sull'umanità e non ha la capacità di mostrarsi vera in un mondo di religioni in competizione Qual è la risposta del cristianesimo a queste sfide? Risposta ai pericoli del postmodernismo Il cristianesimo afferma di essere assolutamente vero che esistono delle distinzioni significative nelle questioni di giusto, sbagliato, di verità spirituale e falsità e che affinché sia corretta nelle sue dichiarazioni su Dio ogni dichiarazione delle religioni concorrenti deve essere incorretta Tale posizione provoca accusa di arroganza e di intolleranza da parte del postmodernismo Tuttavia la verità non è una questione di atteggiamento o di preferenza e quando vengono attentamente esaminate le fondamente del postmodernismo crollano rapidamente rivelando che le rivendicazioni del cristianesimo sono sia plausibili che convincenti Prima di tutto il cristianesimo afferma che esiste la verità assoluta Infatti Gesù dice specificatamente che egli fu mandato per fare una cosa per rendere testimonianza della verità Giovanni 18,37 Il postmodernismo dice che non si dovrebbe affermare alcuna verità ma la sua posizione è controproducente afferma almeno una verità assoluta che nessuna verità dovrebbe essere affermata Questo significa che il postmodernismo crede nella verità assoluta i suoi filosofi scrivono dei libri affermando cose che si aspettano che i loro lettori accettino come verità Per farla breve un professore ha detto quando qualcuno dice che non esiste una cosa come la verità ti stanno chiedendo di non credervi così non farlo In secondo luogo il cristianesimo sostiene che esistano delle distinzioni significative tra la fede cristiana e le altre credenze Bisognerebbe capire che chi sostiene che non esistono delle distinzioni significative sta facendo una distinzione Sta tentando di mettere in mostra una differenza in quello che lui crede che sia vero e quello che i cristiani affermano che sia vero Gli autori postmodernisti si aspettano che i loro lettori giungano alle giuste conclusioni su quello che hanno scritto e che corregano quelli che interpretano la loro opera in modo differente da come l'hanno intesa Ancora una volta vediamo qui che la loro posizione e filosofia sono controproducenti perché fanno distinzione tra quello che credono che sia giusto e quello che vedono come falso Infine il cristianismo sostiene di essere universalmente veritiero in quello che dice riguardo alla condizione perduta dell'uomo al sacrificio di Cristo per conto dell'umanità caduta e alla separazione tra Dio e chiunque decida di non accettare quello che Dio dice riguardo al peccato e al bisogno di pentimento Quando Paolo affronta i filosofi stoici ed epicurei della collina di Ares dice ma ora passando sopra i tempi dell'ignoranza Dio comanda tutti gli uomini e dappertutto che si ravedano Atti 1730 La dichiarazione di Paolo non fu questo è vero per me ma potrebbe non esserlo per te al contrario era un comando esclusivo ed universale ovvero una metanarrazione da Dio per tutti ogni postmodernista che sostenga che Paolo abbia torto si sbaglia secondo la sua stessa filosofia pluralista che dice che nessuna fede o religione è errata ancora una volta il postmodernismo viola la sua stessa visione che ogni religione possa essere ugualmente vera così come non è arroganza per un insegnante di matematica affermare che 2 più 2 fa 4 o per un fattore insistere che solo una chiave aprirà una porta chiusa non è arroganza per il cristiano ergersi contro il postmodernismo pensando e insistendo che il cristianesimo sia vero e che tutto quello che si oppone adesso sia sbagliato la verità assoluta esiste così come esistono conseguenze per quelli che è sbagliato mentre il pluralismo può essere desiderabile in questioni di preferenze culinarie non aiuta in questioni di verità il cristianesimo dovrebbe presentare la verità di Dio in amore e chiedere semplicemente ad un postmodernista che si arrabbia per la dichiarazione esclusive del cristianesimo sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità Galati 4.16 un ringraziamento a tutti grazie per aver seguito questo video se avete domande scrivetemi un saluto da Bruno Pepi e un arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti